Alessandro Mastalli è ufficialmente un nuovo calciatore dell'Avellino. Il centrocampista classe 96 ha raggiunto la sede della proprietà erpina ed ecco le prime parole da Biancoverde. Vi mando un caro saluto e come ho detto anche prima, forza Lupi. Al suo fianco il presidente dei Lupi, Angelo Antonio D'Agostino, che ha presentato così Mastalli. È un colpo importante, quindi siamo sulla buona strada, partiamo bene, chi bene inizia a metà dell'opera si dice, quindi benvenuto Alessandro. Cerchiamo di fare bene, lo vedo molto motivato, molto contento, ci piace la piazza. È un giocatore sicuramente che non avevamo queste caratteristiche e che ci può dare sicuramente quel valore aggiunto che serve alla squadra. È un ragazzo molto solare, molto sorridente, contento e motivato. È un ragazzo che credo che ci troveremmo bene. Poi inserito nel gruppo che si è creato, sicuramente andiamo bene ed è una persona molto tranquilla. La voglia del riscatto, con l'indubbia qualità limitata solo da un brutto infortunio nell'estate tra la Serie C e la cadetteria con la Juve Stabia. Mastalli riparte dall'Avellino. Il club è vicino anche a Gennaro Scognamiglio, in uscita dal Pescara, per il ruolo di difensore centrale e a Daniele Mignanelli, esterno sinistro del Modena.